Sono Vincenzo Montella, un ex calciatore professionista, attualmente allenatore, tra cui ho allenato la Roma, il Milan, il Catania, la Fiorentina, la Sampdoria e il Siviglia. Attualmente sono l'allenatore della Danademi Sport, una delle città colpite dal tremendo terremoto in Turchia. È da qui che nasce la mia nuova associazione umanitaria, Vincenzo Montella Emergency, composta da me come presidente e composta dai membri della mia famiglia, Emanuele, mio fratello, Alessio, mio figlio, Rachele, mia moglie, senza scopo di lucro e non ci sono costi nascosti. Lo scopo è quello di iniziare con una raccolta fondi per la popolazione di Adana, dove mi impegnerò, mi impegnerò personalmente nell'attuazione di alcuni progetti. Come primo progetto abbiamo creato un Fundraising per la raccolta fondi, dove è possibile accedere sul sito web sos.turchia.com. Tramite questo portale è possibile accedervi e donare, per quanto vi è possibile. Per la realizzazione dei primi progetti, che sono costruire e installare delle case mobile per le tante persone sfollate, così come garantire un'istruzione scolastica per i tanti bambini rimasti orfani. Vi ringrazio di cuore, qualsiasi cosa vogliate donare sappiate che verranno spesi con il cuore, e verranno spesi con attenzione e verranno spesi direttamente con la mia garanzia di serietà e onestà. Grazie a tutti.